Ciao, oggi vi mostrerò come rimuovere i punti neri, con metodi naturali. Ma prima di iniziare, assicurati di iscriverti, e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie e buona visione, i punti neri sono piccole proiezioni di pelle, che si trovano sul viso, soprattutto sul naso. Queste proiezioni nere formano un tappo che blocca le ghiandole sebacee della pelle. Sono causati dall'eccessiva produzione di, sebo, da parte della ghiandola sebacea, che lentamente, si indurisce quando si mescola alla pelle morta, e ai batteri. Il sebo, viene esposto all'ossigeno dell'aria, si ossida e diventa nero. Ora, vi elencherò le principali cause che portano ai punti neri, stress. Cambiamenti ormonali, ereditarietà, pelle grassa, cosmetici, fumo, alcol, caffeina. Segui questi modi semplici e naturali, per pulire i pori e rimuovere i punti neri, usando ingredienti facilmente reperibili a casa. 1. Pomodoro. I pomodori sono un ottimo rimedio casalingo per rimuovere i punti neri. Questo frutto ha proprietà antisettiche naturali che seccano i punti neri. Prendi un pomodoro piccolo, sbucciato e schiacciato, quindi applicalo sui punti neri prima di andare a letto. Lasciare in posa per una notte e poi lavare il viso con acqua tiepida al mattino. 2. Scrab al limone. Il limone è un altro ingrediente naturale efficace nel trattamento dei punti neri. Spremere qualche goccia di succo di limone in una ciotola, aggiungere un po' di sale, e mescolare bene il composto. Lavare il viso con acqua tiepida e applicare la miscela sui punti neri. Lasciare agire per circa 20 minuti e lavare nuovamente il viso con acqua tiepida. 3. Strofinare il dentifricio. Applicare uno strato sottile di dentifricio sui punti neri, lasciare agire per 25 minuti e lavare delicatamente il viso con acqua tiepida. Ripeti questo rimedio per due settimane per liberarti dai punti neri. 4. Massaggio al miele. Il miele ha proprietà antisettiche, che fanno miracoli sia per la pelle grassa, che per i punti neri. Applicare il miele sulla zona interessata, e lavare con acqua tiepida dopo 15 minuti. 5. Maschera al bicarbonato di sodio. Preparare una miscela di bicarbonato di sodio e acqua, formando una pasta. Applicare delicatamente sulla parte interessata, lasciare asciugare per qualche minuto, e poi risciacquare con acqua tiepida, per rimuovere l'olio e lo sporco che causano i punti neri. 6. Uova. Le uova crude sono un rimedio casalingo efficace, per sbarazzarsi dei punti neri. Sbattere uno o due albumi, mescolati con un cucchiaio di miele. Applicare questa miscela sull'area dei punti neri, lasciare agire per 30 minuti, e lavare con acqua tiepida. 7. Impacco alla cannella. Preparare una miscela di parti uguali di cannella in polvere, e succo di lime per formare una pasta densa. Applicare la pasta sulle parti interessate e lasciare in posa tutta la notte, quindi lavare con acqua tiepida al mattino. Se ti piace il video, metti un pollice in su e condividilo con i tuoi amici, clicca il link in descrizione se vuoi altri prodotti molto utili, a contrastare, i punti neri. Grazie. Grazie.